Il formaggio artigianale, alimento quotidiano, prelibatezza, legame con il territorio, oltre a ciò è il punto di arrivo di un lungo e complesso viaggio, che presuppone conoscenza, competenza, passione, dedizione. Questo viaggio parte da lontano, da un animale, la capra, essere vivente che va alimentato, accudito, curato, munto. Il suo latte va poi trasformato con sapienza a dare numerosi e diversi formaggi di capra artigianali. L'allevatore non rimane quindi soltanto tale, ma diventa ogni giorno anche casaro. Ogni formaggio artigianale racchiude in sé tutta la conoscenza e la manualità che l'allevatore casaro ha acquisito con gli studi e l'esperienza. L'allevatore sa come alimentare le proprie capre, quando e come farle riprodurre per cominciare la produzione di latte, come curarle in caso di necessità, come prendersi cura quotidianamente di loro. Sa anche mungerle nel modo corretto. Quando entra in casa d'ificio diventa casaro e trasforma il latte in formaggi, yogurt e ricotte, con gesti che si ripetono ogni giorno, uguali ma anche diversi a seconda del tipo di produzione. Quando vediamo un formaggio artigianale pensiamo quindi a quanta conoscenza, esperienza, passione, ma anche fatica e a volte illustrazione porta con sé.